c'è chi dice no c'è chi dice no io non ci credo buongiorno amici dello zoccolo duro buongiorno 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 che giornate di champions martedì mercoledì champion 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 oggi c'è europa 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 e milan divano 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 ma che vuoi giocare a fare che vuoi giocare a fare di cosa volete parlare parliamo della champions dei perdenti meno oggi voglio parlarne bene adesso vediamo o parliamo del milan partiamo dal milan partiamo dal milan partiamo dal milan come sempre davanti allora del milan del milan se perdiamo sabato e non voglio pensare che perdiamo anche se giochiamo in trasferta a genova contro andrea azzoli che tra l'altro non sta facendo benissimo ma gioca a calcio almeno almeno quello se perdiamo a genova siamo ultimi in classifica perché se se vai a vedere le altre sfide la sandoria la spalla eccetera noi se perdiamo a genova siamo ultimi in classifica e questi se si permettono di essere ultimi in classifica e non esonerare jean paul perché oggi si parla anche di non esonerare jean paul se si permettono di essere ultimi non esonerare jean paul vuol dire che noi tifosi veramente non contiamo niente zero zero sotto zero meno di zero meno di zero meno poi tra i tifosi ci sono quelli che come sapete li vogliono gattuso almeno quanto meno fa meglio meglio che sono tutte cose che sapete che io non accetto e non posso accettare io posso anche accettare in realtà no però nella peggiore delle ipotesi nella peggiore delle ipotesi perché non fa parte del mio dna io non sono uno a cui piaccia abbassare la testa se non si è capito nella peggiore delle ipotesi io posso anche accettare il fatto che hai bisogno di tempo per fare un progetto per tornare a competere per vincere competere per vincere quindi se tu prendi un allenatore per fare un progetto che fra due tre anni mi può portare a competere per vincere storco il naso proprio che già ce l'ho grosso lo giro e cerco di farmelo piacere ma il vero problema è che oggi non c'è un progetto per il futuro un progetto per il futuro non c'è un progetto c'è niente niente zero di zero tra l'altro domenica finalmente finalmente tanto io sento che non sono d'accordo io invece sono d'accordo finalmente forse forse giravoce voce gira giravoce voce gira che piontech sta in panchina perché secondo me una due giocate in panchina gli fanno bene pure a lui che sta facendo ma sicuramente non è servito nella maniera giusta sicuramente abbiamo un allenatore che non sta facendo bene però anche lui lo sta facendo bene e le hao in 30 minuti ha fatto più di piontech in sei partite di conseguenza è giusto metterlo in panchina metti le hao prima punta e giochi con rebic io metterei buonaventura però quello mette su io metterei proprio buonaventura dietro il modulo di john paul c'è il tuo modulo hai le persone per farlo non devono giocare per forza tutti potresti mettere buonaventura dietro le punte o paketà che questo non fa giocare manco paketà o paketà con le hao e rebic no perché c'è anche gente che mi viene a dire eh no ma il milan ha fatto un mercato che non che non va bene per john paolo non va bene e quindi per quello che john paolo è ultimo in classifica parte che ultimo in classifica non ci puoi essere mai con una rosa come il milan indipendentemente dal calcio mercato ma se tu pensi nella tua testa che il modulo funzionale a come lo pensi tu è con le hao e rebic che sono due punte che possono andare bene per il tuo modulo e un trequartista che nei quattro il trequartista perché dicono mi dicono anche noi non abbiamo trequartisti abbiamo paketà che è trequartista charanoglu che è trequartista buonaventura che è trequartista e poi adattare anche su giù quindi come fate a dirmi che non abbiamo il trequartista ce li abbiamo non li fa giocare come trequartisti è semplice e poi abbiamo castiglieco che per lui è il più trequartista di tutti tra l'altro tra l'altro quindi mi dicono che non c'è il trequartista vabbè niente ragazzi quindi adesso a genoa vediamo cosa cosa si inventerà il jean paul parlano di un ritorno in campo di castiglieco e borini speriamo di no guarda accetterei il rientro di castiglieco solo se tiene in panchina suso perché almeno anche lui se la merita la panchina anche se in realtà contro il genoa sua ex squadra segna sempre però io l'avevo detto anche domenica con la fiorentina poi invece geneminga ha fatto niente ha fatto proprio schifo ha fatto quindi speriamo forse anche perché ce l'ho fatta calcio speriamo 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 poi parliamo della champions ovviamente i cugini hanno perso barcelona troppo più forte anche se messi camminava ieri messi ha camminato praticamente per 80 minuti poi ha preso palla visto asamoa che è scarso scarso asamoa ve l'ho detto che quello è proprio scarso e sarà più forte biraghi e verrete qua interisti a dirmelo avevi ragione su biraghi molto più forte sa ma che è scarso che lo dico da due anni che è scarso scarso gli fa perdere dopo le partite quelle uno che fa perdere le partite l'ha proprio scherzato tu mi dirai è però è stato saltato da messi capito poi l'ha preso in giro cioè l'ha preso per mano l'ha portata al parco proprio non gli ha fatto vedere niente quasi da fermo tra l'altro gli ha fatto papà adesso sinistro casamoa era lì così non capiva niente dai poi l'ha preso di nuovo dopo dopo il gol dai l'ha proprio scarso 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 e quindi ha messo a posto la partita mezzo all'orino anche di godin e ha messo a posto la partita messi però però bisogna dire perché poi l'onestà intellettuale viene prima di tutto infatti l'avevo scritto anche i miei amici interisti che ha fatto un gran primo tempo ha fatto un primo tempo che se finiva 230 non c'era niente da dire fatto un primo tempo veramente sbalord di di veramente sbalordivamente capito sbalordioso come si dice che mi ha sbalordito va bene così che mi ha sbalordito primo tempo che mi ha sbalordito e hanno giocato bene hanno giocato bene c'è niente da fare ha giocato bene barella sta tornando bene barella sta tornando bene l'hanno pagato 50 milioni cioè vorrei ricordare che ha pagato 50 milioni e po poca roba a livello di conclusioni difficilmente entra in area molto in molto meglio sensi e poi fa troppi falli perché ieri poi tra l'altro sento anche parlare di arbitri l'arbitro male male malissimo ma però è stato coerente cioè l'arbitro scurma ha abitato male c'era un rigore per l'inter eccetera ma è stato coerente col suo metodo di giudizio cioè al primo al decimo c'è secondo giallo per barella espulsione e quindi quello è quello è con un arbitro normale barella che prende 4 espulso la partita che finisce probabilmente 3 4 a 1 e che parliamo di tutt'altra cosa parliamo di tutt'altra cosa non gli ha dato il giallo ma non perché voleva favorire l'inter o qualcosa del genere non gli ha dato il secondo giallo perché era uno che lasciava correre molto e infatti poi ha continuato su questa linea tutti tanti falli del barcellona sanzionabili ma alcuni anche da giallo che non ha proprio fischiato non ha proprio fischiato e quindi giustamente l'inter che stava in vantaggio e quindi doveva difendersi ha subito questa questo metodo di giudizio dell'arbitro non che l'arbitro fosse a favore del barcellona lui aveva quel metodo di giudizio che l'inter ha subito perché ovviamente giocando contro la squadra più forte sei in vantaggio quello quei falli ti servono quei falli ti servono ha segnato un gran gol lo snorchi ragazzi incredibile ho acceso la tv ho visto lo snorchi fatto un gran gol ha detto no non può essere lo snorchi invece ha fatto un gran gol ha fatto anche una bella partita secondo me ha corso ha tenuto palla era morto alla fine era morto stanchissimo mi ha fatto una bella partita mi ha sorpreso mi ha sorpreso purtroppo è sfortunato quel ragazzo che una volta che poteva essere utile invece hanno perso lo stesso però ha fatto una bella partita se gioca così non è un crack però può fare può fare qualcosa di buono e di utile qualcosa di buono e di utile quindi niente alla fine quando vai a giocare lì al camp no ragazzi giochi male perdi giochi medio perdi giochi bene perdi lì deve venirti la partita perfetta cioè per portare a casa punti al camp no deve avere la partita perfetta qualche episodio a favore la parte per questo vale per tutti e non solo per l'inter al camp non è che si va a vincere al camp no e quindi è così è così è così poi il napoli ha pareggiato ho visto che comunque ha dominato l'ho vista poco il napoli perché ero lì a radio mila inter tanto saluto gli amici di via di radio mila inter paola sergio beppe ci siamo angelo ci siamo divertiti a breve sistemeremo anche per la diretta facebook così da poterci far seguire da tutti e poter interagire soprattutto con le persone che ci seguono che è la cosa che preferisco di più anzi è un po di tempo che non faccio live ma a breve voglio fa voglio tornare a fare qualche live appena becco vito che riesco a beccarlo nel momento giusto magari faccio qualche live sapete che io però li faccio di solito di pomeriggio quindi chi c'è c'è chi non c'è non parla come si dice va bene per questo è per oggi è tutto come dicono al telegiornale per oggi è tutto mettete un bel like come sempre che facciamo girare l'algoritmo e iscrivetevi allo zoccolo duro lo zoccolo duro che adesso devo andare a prendere mia moglie mio figlio all'aeroporto che sono tornati da charm ci sono fatti le vacanze va bene ciao belli fatti bravi ciao 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 Grazie a tutti.